Secondo me Totti è ancora uno dei giocatori più forti che ci sta in circolazione a livello europeo e quando ho detto a livello europeo prendi anche una buona fetta di altri continenti perché da noi il calcio europeo è un calcio importante e De Rossi fa la stessa cosa. Tra l'altra cosa Totti stava vivendo un momento estremamente felice e quindi è normale che non averli contro è un vantaggio sarebbe da stupido dire il contrario però badate bene la Roma ha anche altri giocatori perché la Roma è una squadra costruita è una squadra per il futuro non è tanto una squadra per adesso perché è una rosa molto giovane ha fatto investimenti importantissimi con giocatori giovani di grande talento ed è chiaro che non è che ai giocatori così gli puoi chiedere tutto e subito. Ci vuole un attimino di tempo però la Roma nel giro dei due tre anni diventerà una delle squadre più forti del campionato perché ha costruito molto bene e già sta facendo tutto sommato la Roma secondo me sta facendo il suo campionato gli potrà mancare qualche punto ma è quella insomma il campionato della Roma oggi con dei giocatori di grande talento quindi dovremo stare attenti molto molto attenti perché diventa una partita molto difficile. Ha cambiato qualche cosa come atteggiamento tattico e chiaramente giocano in maniera diversa intanto difendono quasi sempre con sette giocatori se manterrà il 3-4-3 visto nelle ultime partite. Anzi dico una stupidaggine scusate no con sette giocatori perché nella partita con la Juventus Osvaldo e Totti rientravano sovente a dare una mano a quindi si abbassavano diciamo tolto il portiere con 9 giocatori dietro alla linea della palla. Ne lasciavano uno alto e riuscivano a essere compatti e poi chiaramente è una squadra che se riesce a ripartire e c'è spazio è normale che avendo dei giocatori di caratura alta tecnicamente poi vanno in porta.